ascolta che verso fa lo squalo tigre questo è il verso che noi squali facciamo questa sì che è una iniziativa interessante e divertente grazie a costa edutainment questi cuccioli d'uomo capiranno la gestione e l'uso responsabile degli ambienti acquatici vivendo una notte insieme a noi squali e agli altri ospiti delle vasche dell'acquario di Genova è talmente interessante che tigre ed emmi hanno creduto in questa iniziativa offrendola come premio di un concorso nazionale a imparare divertendosi finalmente un modo intelligente per occupare il tempo libero di questi piccoli uomini educazione, divertimento, emozione, cultura c'è anche la biosfera sembra di essere nella giungla piante tropicali, uccelli, insetti e poi, e poi la città dei bambini e dei ragazzi guarda, guarda i giochi per scoprire il comportamento della luce la vita delle formiche la televisione aprire l'acquario di notte solo per questi bambini rende tutto molto emozionante e coinvolgente biologi e animatori sveleranno le nostre curiosità e i nostri segreti vivranno un sogno a occhi aperti che non dimenticheranno mai e poi, al mattino, visitare gli altri ambienti dell'acquario stimolerà la loro mente speriamo che la prossima volta tocchi a noi squadri vivere un sogno fantastico e indimenticabile magari ricambiando la visita che verso fa lo squadro tigre? lo squadro tigre? non fa il verso ciao mio amore